Città metropolitana e Parco Agricolo Sud Milano tentano ancora di bloccare la superstrada Vigevano Malpensa mentre si è in piena gara d'appanto per l'affidamento dei lavori per il primo tratto. L'accusa rivolta ad ANAS è di aver messo a gara un progetto diverso da quello inizialmente approvato. In un documento firmato dal vice sindaco metropolitano Francesco Vassallo, dalla consigliera delegata alle infrastrutture stradali Daniela Caputo e dal presidente del Parco Agricolo Sud Milano Daniele Delben si fa riferimento in particolare al viadotto sopra Naviglio Grande alla ferrovia che verrebbe sostituito da una galleria artificiale ed alcuni svincoli sostituiti da semplici incroci stradali con segnale di stop. Città metropolitana e Parco Agricolo Sud Milano parlano di cambiamenti di dimensioni ciclopiche tanto che il commissario straordinario di ANAS avrebbe chiesto un'ulteriore parere ai ministeri delle infrastrutture e dell'ambiente. I firmatari del documento auspicano che questo bene placito non arrivi e tornano alla carica proponendo di abbandonare il progetto dicendosi disponibile esaminare soluzioni alternative per migliorare la viabilità dell'area.